Ideal Italia è stata una delle prime aziende che ha deciso di collaborare con Tutored, capendo a fondo le potenzialità di questo portale. Per noi è fondamentale entrare in contatto con giovani neolaureati o in procinto di laurearsi, e Tutored, quando ha aperto le porte alle aziende, è diventato per noi un volano molto importante. Noi abbiamo necessità di raccontare la nostra storia, le nostre opportunità lavorative agli studenti che si stanno laureando, e di conseguenza anche di poter dare alcuni consigli per come affrontare al meglio il percorso futuro nel mondo del lavoro.